ciao ragazzi come sempre no tardi di più superato ogni limite però piuttosto che non fare niente è mai più tost no piuttosto che niente è mai più tost una piccola riflessione sul mistero dell'ascensione la festa di oggi gesù che sale in cielo è evidentemente non è un viaggio astronautico in mezzo alle stelle ma è l'ingresso di gesù con il suo corpo risorto nella dimensione divina in quella diversa modalità dell'essere che sotto a tutte le cose che sostiene tutte le cose in vita il cielo è il luogo dove dio abita cioè ovunque è la radice di ogni essere di ogni esistenza da quando gesù è entrato nel cielo cioè entrato con il suo corpo nella dimensione divina allora è davvero presente in tutte le cose e le conduce come dice anche papa francesco bellissimo nella laudato sì le conduce verso una pienezza tutti insieme con tutte le creature tutte le creature non solo gli uomini ma tutte le creature stiamo camminando verso la pienezza della gloria del cristo risorto e pensare che c'è uno di noi poi sappiamo che c'è anche c'è anche un'altra c'è anche maria ma pensare che c'è per primo uno di noi un uomo che è entrato col suo corpo trasfigurato risorto per carità ma il suo corpo quello con le stigmate con le ferite è entrato nella nella sfera di dio è l'immagine più alta che si possa immaginare della valorizzazione dell'umano che cosa c'è di più alto che pensare che tutto ciò che è umano tutto ciò che fa parte di noi il nostro corpo è quello che con questo corpo noi viviamo un giorno entrerà in dio entrerà nel cielo entrerà in quella dimensione eterna in cui nulla andrà perduto delle nostre lacrime delle nostre gioie dei nostri affetti delle nostre opere perfino dei nostri peccati quando sono perdonati riconciliati tutto tutto sarà salvato ecco la festa dell'ascensione è la festa della presenza di cristo non è la festa del saluto ciao gesù non ti vediamo più che tristezza non sarebbe una festa ma è la festa della presenza di Gesù in una maniera più profonda e più vera ovunque nei segni nei sacramenti nei fratelli nelle creature una presenza di cristo che ci accompagna e ci sostiene per naturalmente anche impegnarci a essere davvero anche ciascuno di noi segno della presenza di cristo il nostro amore il nostro servizio la nostra carezza alle persone siano il servizio l'amore la carezza di Gesù incontriamo Gesù e siamo Gesù siamo le mani siamo i piedi siamo le parole di Gesù oggi come dice l'antica preghiera medievale noi siamo l'unica bibbia che i popoli leggono ancora l'unico messaggio di dio scritto in opere e parole Gesù si serve anche di noi siamo il suo corpo siamo le sue mani siamo lui che continua la sua opera nel mondo ascersione glorificazione di ciò che è umano e impegno a portare l'annuncio a tutti come dice san francesco ai suoi ai suoi frati annunciate il vangelo a tutti se necessario anche con le parole quindi non tanto con le parole ma con la nostra vita buona festa dell'ascensione ormai è passata ma buon proseguimento nella luce dell'ascensione guardando là dove dio ci vuole portare dove porta l'umano quanto l'umano sta a cuore a dio si vede proprio nella festa dell'ascensione ci ha portato oltre le sfere angeliche ci ha fatti sedere sul suo trono nei cieli è là dove ci ha preceduto cristo come dice la liturgia di oggi nostro capo nella gloria che anche noi speriamo di arrivare un giorno uniti nella stessa gioia nello stesso amore nello stesso abbraccio ciao ragazzi e ricordiamoci di pregare tanto in questi giorni per la terra santa per la pace di gerusalemme domandate pace per gerusalemme sia pace a coloro che ti amano come dice il salmo 121 ciao